Salve a tutti, sono Mirta Michilli e sono il direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. Oggi vi voglio invitare alla ROMCAP, il Trofeo Internazionale Città di Roma di Robotica, che si terrà presto il Dipartimento di Ingegneria della Facoltà di Roma 3 dal 2 al 5 aprile. Un evento dedicato ai giovani e alle nuove frontiere dell'innovazione. Sperimenteremo insieme come la robotica, l'intelligenza artificiale e le scienze della vita potranno cambiare il futuro lavorativo dei nostri giovani e quali opportunità offriranno loro. Organizzeremo gare, contest creativi, hackathon, laboratori. Ci sarà una grande parte dedicata ai prototipi innovativi di start-up italiane, oltre 12 università presenti, tra cui il Sant'Anna, l'IT di Genova, ma soprattutto tanti e tanti studenti di scuole superiori italiane. È un evento imperdibile perché permette di formare contaminando. Quindi continuate a seguirci!